Pretendeva di entrare senza averne titolo nel centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco e a rifiuto di un vigilante di guardia ha danneggiatolo su auto, non contento all'arrivo degli agenti di polizia e inveito contro di loro. Un cittadino extracomunitario di 31 anni è stato arrestato dagli agenti della sezione volanti per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato. Nella tarda mattinata di giovedì il cittadino straniero pretendeva di eccedere nel centro di Restinco e a rifiuto del personale di guardia ha scagliato una transena contro l'Alfa Romeo 159 del vigilante, danneggiandone la carrozzeria, il parabrezza e il finestrino anteriore destro. Poi è fuggito. Poco dopo è stato individuato dagli agenti della sezione volanti e bloccato alla vista dei poliziotti, ha rifiutato di fornire documenti di identità e ha colpito con la punta delle dita il petto di uno dei poliziotti sputando contro di lui. In tasca aveva una pistola giocattolo provvista di tasto rosso. Condotto negli uffici della sezione volanti si è scoperto che si tratta dello stesso personaggio che nell'ottobre dello scorso anno lanciò un grosso sasso contro un pullman della STP carico di studenti mandando in frantumi un finestrino. Il giovane è stato rinchiuso nella casa circondriale di Brindisi.